Le elezioni comunali 2020 si terranno il 20 e 21 settembre in 17 comuni della regione Marche. Il turno di ballottaggio avverrà il 4 e il 5 ottobre. Si voterà in tre comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In sintesi i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti. I comuni al voto sono 17 su 227 comuni marchigiani, pari al 7,5%. I comuni con più di 15.000 abitanti sono 3 su 17, pari al 17,6%. I comuni con meno di 15.000 abitanti sono 14 su 17, pari all'82,4%. I capologhi di provincia sono 2. I comuni al voto nelle Marche sono 3 in provincia di Ancona, Cerreto Desi, Loreto e Senigallia, 2 in provincia di Ascoli Piceno, Appignano del Tronto e Cossignano, 7 in provincia di Fermo, la stessa Fermo, Monte Portino, Monte Leone di Fermo, Montelparo, Monte Rubbiano, Montottone, Santa Vittoria e Matenano, 3 in provincia di Macerata, il capologo di provincia, Petriolo e Dussita, infine 2 in provincia di Pesaro Urbino, Isola del Piano e Sant'Angelo in Vado.